dal corpo del vostro cuore diceva a tutti, ha fatto bene ogni cosa, fa bene solo che fa bene, non tutti coloro che sono assenti in questo momento si sono affidati alle nostre strategie, ci sono tanti, coloro che non sono presenti per vari motivi, tra tuo carmelo che ci va chiesto, per il nostro coordinatore, per tanti anni, ma non ci dimentichiamo anche perché è un tempo di intercessioni che avevamo preparato, di pregare anche queste persone a tutti, ha fatto bene, non ci dimentichiamo anche queste persone, ma non ci dimentichiamo anche a tutti, ha fatto bene, non ci dimentichiamo anche queste persone, ma non ci dimentichiamo anche a tutti, ha fatto bene, non ci dimentichiamo anche queste persone, ma non ci dimentichiamo anche la mia ha subito un trauma è un cuore infuso un cuore insensibile e il Signore ti sta dicendo in questo momento spalancra il tuo cuore e accoglimi dentro di te io ti guarirò ti libererò da questo trauma grazie Gesù grazie Gesù guardiamo Gesù che sta passando in questo sguardo grazie Gesù vogliamo in questo momento salutare Gesù e pregare per l'unione del mondo vogliamo pregare per un grande parlare di questo affinché il Signore possa intervenire grazie a tutti grazie a tutti